Incassavano il contributo comunale all'alloggio per aver dichiarato lo stato di indigenza assoluta, ma in realtà non si sono mai presentati presso la struttura pagata dall'amministrazione per dargli temporanea ospitalità. Sono sei gli sfollati della scuola di Vieneghelli denunciati per truffa dopo il blitz della Municipale che la scorsa notte si è recata per una verifica nel complesso turistico Varcadoro. Su 56 sgomberati, 17 nuclei familiari e per i quali il Comune ha stanziato finanziamenti per 20.000 euro, solo 26 all'arrivo della Polizia erano presenti nel camping di Marina di Varcauturo, mentre tre minori risultavano già alloggiati presso una casa famiglia sempre a spese del Comune. Per recuperare le somme indebitamente percepite gli assessori comunali al patrimonio Bernardino Tuccillo e alla sicurezza Giuseppe Narducci annunciano un'azione civile e la trasmissione in procura dell'esito degli accertamenti della Polizia Municipale. Così come siamo stati solleciti nel mettere in campo politiche di sostegno, di solidarietà verso persone provenienti da nuclei familiari bisognosi, dobbiamo mostrare intransigenza per far sì che non siano possibili e sostenibili atteggiamenti di scaltrezza, di furberia che raggirino le norme dello Stato, le leggi dello Stato. Quindi abbiamo il dovere istituzionale di dimostrare il massimo rigore e la massima intransigenza possibile. Abbiamo accertato che sono state rese dichiarazioni false al Comune di Napoli circa la composizione dei nuclei familiari. L'obiettivo dunque in questo momento è, da un lato sta partendo una nostra missiva con cui segneremo al Procuratore della Repubblica quanto si è verificato, secondo noi si tratta di reati gravissimi commessi a danni del Comune di Napoli, dall'altro stiamo attivando le procedure di tipo civilistico per recuperare tutte le somme che sono state indebitamente percepite dalle persone che evidentemente non avevano, mi sembra chiaro, alcuna necessità di godere di contributi.